Benvenuti Benvenuti a questa videoanalisi del 29 agosto 2016, videoanalisi che potete ricevere gratis via email, basta cliccare sulla scritta che compare sopra la mia testa, videoanalisi realizzata insieme al broker STO, alla mia destra il sito internet sotto di me scorrono i contatti di Marco Pianezza, numero ufficio di Milano, potete anche andarlo a trovare direttamente di persone, conoscerlo di persona, ho il suo indirizzo email, ma soprattutto alla mia destra vedete il numero SMS solidale 45500. Per aiutare le popolazioni vittima del terremoto che c'è stato, sapete benissimo, nei giorni scorsi, quindi resta sempre lì, terrò ancora per tutta questa settimana il numero SMS 45500, mi raccomando. Allora, si apre una nuova settimana, mercati che già come dicevo in chiusura della videoanalisi di venerdì scorso dove l'Europa era chiuso positiva ma l'America aveva sterzato in senso negativo e oggi l'Europa ha pagato caro. Quel trend finale che ha coinciso con la chiusura delle borse europee e l'apertura, che praticamente ha aperto da poco, c'è stata la virata in negativo quando praticamente le borse europee avevano chiuso con il segno positivo e quindi questo è il risultato della seduta odierna. Con l'indice inglese Fusi 100, non si legge però perché c'è la scritta del terremoto, dell'SMS solidale, ha chiuso più 0,31 per quanto riguarda l'indice inglese, meno 0,41 per il DAX, stesso praticamente andamento per l'indice francese. Il nostro Fusi Mib è meno un per cento, l'indice spagnolo meno 0,50, l'indice europeo meno 0,15, comunque hanno recuperato dai minimi e vi farò vedere anche adesso l'andamento intraday. Questo invece gli indici americani che oggi tornano a salire, scusate ho sbagliato perché l'indice inglese è chiuso, oggi Bank Holiday, scusate, quindi questo più 0,31 non è da prendere in considerazione. Dow Jones, S&P 500 e Nasdaq viaggiano con un guadagno di mezzo punto percentuale, Oil ancora in flessione, quindi si resta ancora al ribasso. Vediamo quindi quello che è l'andamento intraday grazie alla piattaforma MT4 di STO, grafici e chi nasci che vi fanno anche vedere una possibile strategia intraday. Dal 12 settembre ci sarà una grossa importante novità legata alla formazione intraday, targata anche STO, broker STO. Quindi questo è l'andamento, vedete c'era stato, si perdeva anche di più a un certo punto di inizio giornata e poi il recupero. Questo è il nostro Fusimib, Eurostox, inglese fermo, questo è il DAX, l'indice francese, l'indice spagnolo, quindi tutto sommato c'è stata una ripresa, si è chiusi addirittura il DAX, siamo come vedete qui sui massimi di giornata. Vediamo quindi su base daily e attenzione perché sul nostro Fusimib si forma la candela rossa e chi nasce, sotto quella ormai resistenza in aria 17.000 punti. Resta ancora negativo il trend anche sul DAX in discesa dalla resistenza ai 10.800 punti. C'è una bella candela verde invece sull'indice francese, anche l'Eurostox sembra voler recuperare, l'Inghilterra resta chiusa e quindi comunque quadro grafico ancora al ribasso. E questo è invece l'indice spagnolo che si differenzia un po' dal nostro italiano. Prima sembravano andare un po' di pari passo, invece adesso sull'Italia vedete si è confermata la candela rossa, non su quello spagnolo. Vediamo invece l'andamento degli indici USA che come detto oggi stanno decisamente recuperando terreno, però insomma quello che è l'andamento è abbastanza chiaro. Se faccio uno zoom siamo in presenza di una possibile flessione da livelli altissimi, massimi storici per quanto riguarda gli indici inglesi, americani, scusate, devo ripartire questa settimana ancora, non ho registrato bene i vari meccanismi del cervello. E quindi resta un'intonazione di base al rialzo, anche perché è una notizia di un possibile rialzo dei tassi, siamo comunque vicini allo zero, comunque si resta bassi in quanto riguarda il discorso Stati Uniti. Potrebbe anche essere accolto positivamente per i mercati finanziari, per i titoli finanziari bancari, soprattutto quelli che erogano credito, mutui, che quindi potrebbero respirare e tornare ad una certa redditività. Però attenzione, perché ne parlavo anche, c'era una interazione su Facebook, sul mio profilo Facebook, se volete sono presente anche lì, chiedetemi l'amicizia, volentieri ricambio. Attenzione, perché ciò che poi ha spostato probabilmente la Yellen, come ho già detto, non ha detto nulla alla fine, ha si detto, si è accodata al coro di voci di colleghi della Fed che hanno detto, attenzione, settembre potrebbe esserci un rialzo, oramai i tempi sono maturi per un rialzo dei tassi americani. Non ha dato una data precisa e quello aveva portato a un movimento, che si è visto nell'intraday. Poi però è stato il vicepresidente Fischer, che addirittura è tornato a parlare di due possibili rialzi, settembre e dicembre. Quello è stato, insomma, che ha cambiato decisamente il quadro. Vi faccio vedere anche, visto che ci siamo, il mercato obbligazionario, la reazione, perché è evidente, guardate, il dieci anni americano, T-Bond, che è accelerazione al ribasso. Questi dieci anni Bund tedesco e il nostro BTP dieci anni. Dicevo, fate molta attenzione, è un discorso che ho fatto più volte anche nelle precedenti video analisi, un rialzo dei tassi di interesse è pericoloso per il debito che c'è in America, ma in giro per il globo e soprattutto paesi emergenti in valuta americana. Non solo, attenzione anche al discorso immobiliare. La grande crisi del 2008-2009 cominciò proprio con quella dei mutui subprime, che adesso ovviamente non è la stessa cosa, però, attenzione, sono andato a riprendere un articolo del scorso 13 agosto, quindi, vedete, di Fabio Pavesi, sabato 13 agosto, energetici, boom di default negli USA, e si parla, quindi, non adesso, questo è l'articolo 13 agosto, si parla del tasso di fallimento, che era del 10%, siamo arrivati, era praticamente esploso il trend che non smette di crescere, esploso letteralmente dall'inizio del 2016, quando il tasso di fallimento era di solo il 10%, invece abbiamo toccato nel luglio scorso il livello record del 31%, e alla fine dell'articolo il giornalista fa un po' il riassunto di quelle che sono le motivazioni che stanno dietro a questo fallimento di società legate, in questo caso ad oil, ma è giusto per parlare di un comparto, un settore, ma è un discorso che è generalizzato, quel che sta accadendo sul mercato americano dei bond ad alto rischio è certo figlio della caduta violenta dei prezzi del petrolio, che ha messo di fatto nell'angolo i produttori energetici più indebitati, che contavano su flussi di cassa adeguati a fronteggiare il debito, perché è calcolato sul prezzo del greccio, che ovviamente era il doppio rispetto a quanto è avvenuto, ma è anche frutto dei tassi bassi, se non a zero degli ultimi anni, che hanno indotto molti operatori a indebitarsi oltre misura, quindi tassi bassi, indebitiamoci, bisogna accogliere questa occasione, ma un altro rischio è dietro l'angolo e fa temere che l'onda lunga dei crack potrebbe riavvicinarsi all'era in fausta post-crack Lehman, un futuro è in fondo atteso rialzo dei tassi USA, sarà un marrimoto per chi è già oggi molto indebitato. Non solo, questi tassi bassi, ha avuto anche un altro effetto negativo, un articolo presso dal Sole 24 ore di sabato scorso, Giappone, il fondo pensioni perde 52 miliardi di dollari, nel solo trimestre tra aprile e giugno, mentre, che è un rosso che oramai prosegue, che porta a oltre 100 miliardi di dollari di perdite sul portafoglio di investimento in soli 15 mesi, perché con i tassi bassi hanno cambiato, come l'impostazione di questi fondi pensioni, hanno cambiato come le nuove linee guida, faccio un ulteriore zoom così potete magari leggere, le nuove linee guida prevedono che il fondo investa nelle borse ben il 50% del totale delle attività, più di quanto altri fondi pensioni ritengono giusto, è certo abbastanza allarmante per una popolazione che per oltre il 25% ha più di 65 anni e comincia a temere per le proprie pensioni. Questo anche vale per il discorso delle volizie assicurative, assicurazioni che oramai con questi tassi bassi si stanno spostando e il fondo monetario ha fatto anche un report abbastanza importante, mettendo in evidenza la pericolosità delle compagnie assicurative che adesso devono cercare di spostarsi su mercati rischiosi, è quello che sta succedendo. Quindi su questo fondo 52 miliardi di dollari nel solo trimestre. E qui anche piccola parentesi per noi traders mortali, diciamo quelli più piccoli, anche qui hanno perso, vedete anche questi gestori di grossi fondi pensioni che gestiscono tantissimi miliardi di dollari, hanno detto che le motivazioni sono Brexit, deboli dati sull'occupazione USA in maggio, sappiamo benissimo i 38 mila, calo delle borse, rialzo dello yen verso la fine del trimestre, insomma tutte le dinamiche con cui noi poveri comuni trader mortali ci troviamo a fronteggiare quotidianamente con i mercati e loro sono comuni mortali come noi, anche questi grandi gestori, questi dovrebbero essere i professionisti della gestione, insomma anche loro, come vedete, si trovano a fronteggiare, non hanno la bacchetta magina, non sono in possesso di informazioni privilegiate, insomma anche loro, come vedete, prendono delle batoste non indifferenti. Insomma tutto questo per dipingere un quadro, per dirvi attenzione, non voglio adesso fare previsioni catastrofiche, però un rialzo dei tassi, e anche per questo la Yellen era contenta a posticipare, a rinviare la tempistica, a rialzo dei tassi interesse, ma ora come ora sembra che sia maturati i tempi, così proprio parole testuali della Yellen di venerdì scorso, per un rialzo dei tassi, però attenzione che quali dinamiche potrebbe avere a livello mondiale un dollaro forte. Ma torniamo alla piattaforma Metatrader STO, continuiamo a vedere, e quindi questo l'abbiamo visto, mercato azionario europeo, americano e obbligazionario, che scende così in teoria, adesso dovremmo assistere ad una nuova inversione del trend del mercato azionario. Andiamo a vedere altri asset, Forex e materie prime, prosegue la discesa del petrolio e la risalita del dollaro, questo è uno strumento USDCAD correlato inversamente col petrolio, mediamente ma non è automatica la correlazione, se sale uno scende l'altro, vedete proprio il grafico a specchio con USDCAD che quando sale oil mediamente scende, e in questo momento il trend è confermato, uno guarda a nord USDCAD, l'altro guarda a sud il petrolio. E attenzione perché c'è un gold che oggi è andato a toccare proprio la parte bassa del canale, in area 1.315 con un minimo esattamente proprio 1.314.62. Siamo lì, si sta bussando, qualcuno aprirà la porta, ci sarà una candela verde come è accaduto da qui per un'inversione a rialzo, oppure si va a testare nuovi livelli più in basso. C'è qui il vero supporto in area 1.200, però è ovvio che anche qui l'ex resistenza 1.290 potrebbe poi diventare un ottimo livello, sempre che, appaia la candela verde ai kinashi, almeno, poi non è neanche detto che la candela verde è garanzia di successo al 100%, però ecco perché io vado a integrare le candele ai kinashi rosse e verde a seconda delle inversioni, come ulteriore conferma, perché comunque supporti e resistenze storicamente sono destinati a saltare, caput, vengono violati, quindi almeno un aiuto in più con le candele ai kinashi. Quindi, oro che viene giù, perché questo oro è quotato in dollari, il petrolio che abbiamo visto prima, ve lo faccio rivedere, anch'esso è quotato in dollari, quindi questo rafforzamento della moneta USA, che lo vediamo anche contro altre valute, contro l'euro, siamo sotto 1.12, dollaro franco svizzero si va verso 0.98, qui la sterlina un discorso a parte, dollaro yen sopra 102, sarà contento, Kuroda, governatore della Banca Centrale del Giappone, che non vede l'ora, insomma, non vedeva l'ora di far perdere, svalutare la propria moneta. Abbiamo visto i fondi pensione, in quale situazione si trovano anche per effetto dell'apprezzamento che c'è stato dello yen. E attenzione, perché, oggi anche scrivo questo su Facebook, i prossimi meeting del Banca Centrale Americana e Giapponese sono in programma, quello giapponese il 20, quello americano il 21, e quindi ci sono delle settimane di tempo per un ulteriore apprezzamento della moneta americana, che ovviamente andrà a seguire data dependent, quelli che saranno i dati, a cominciare da venerdì prossimo, con tutti il fior di dati, a cominciare dal non-farm payroll, per capire lo stato di salute dell'economia americana, lo stesso Fischer, oltre ad aver detto che non è a questo punto più rimesso di nuovo in gioco la possibilità di due rialzi dei tassi fino alla fine 2016, è anche detto che è il momento di non guardare dietro i dati già passati, ma avanti, a cominciare appunto da quelli di venerdì prossimo, 2 settembre non-farm payroll. E' il dollaro, quindi se anche i dati dovessero continuare a rafforzare questa view, avrebbe spazio, diverse sedute per prepararsi a arrivare poi all'appuntamento del 20, Banca del Giappone e 21 Federal Reserve, chissà, vedremo con cui c'è tempo, insomma ancora, ancora manca quasi tre settimane all'appuntamento, però giusto per avere una view globale, comunque io uso i grafici daily, quindi mi piace adeguarmi, vivere la giornata, adeguarmi in maniera reattiva e tempestiva a quelle che sono le nuove condizioni del mercato. A questo punto, fatto vedere Forex, materie prime, indici, vediamo un'occhiata giusto a i bancari italiani, croce delizia del nostro Fusimib, perché sono quelli che alla fine, l'argo della bilancia si sposta in base, soprattutto all'andamento dei titoli bancari, volevo giusto far notare che c'è qui intesa, magari lo metto in primo piano, in teoria avrebbe violato la resistenza in aria, 2 euro, però questa violazione è avvenuta in una giornata in cui il titolo ha chiuso col segno meno, quindi io sono, a me che piace essere ulteriormente prudente, aspetto la doppia conferma, perché le candele che nasci prendono in considerazione i valori della seduta precedente, che è stata positiva, quindi oggi c'è una perforazione, ma con la realtà di oggi, con un titolo che ha chiuso il negativo, quindi se domani dovesse essere ancora verde sopra la resistenza, con una seduta chiusa col segno più, potremmo parlare di violazione della resistenza, anche per il titolo di banca intesa. Faccio vedere velocemente Apple, visto che so che interessa a molti di voi, prosegue la discesa, con STO potete operare sui titoli, maggiori titoli italiani, anche quelli americani, tedeschi, chiamate Marco e vi dice tutto come funziona, per poter operare su questi titoli, prosegue la flessione della resistenza in aria, a 110 dollari. Bene, per oggi è tutto, grazie per la cortesa attenzione, appuntamento a domani. Grazie. 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 Grazie a tutti